Senza altri ulteriori danni, in pochi anni il bosco tornerà rigoglioso e verde. E' quanto sostiene Caterina Artese, dottoressa in scienze forestali, osservando quel che resta del patrimonio arborio della collina pescarese di San Silvestro, duramente colpita dall'incendio di domenica scorsa. Ma per accompagnare la natura verso la rinnovazione del bosco, occorrerà lavorare di concerto con gli enti, avvalendosi di competenze e professionalità specifiche. Come stanno questi alberi che sono sopravvissuti all'incendio? Si riprenderanno? Dovranno essere abbattuti? Quale sarà il loro destino? Questo è un bosco di Pino d'Aleppo, che è una specie endemica e tipica della nostra zona. Non è stato un fuoco che ha incenerito tutto, abbiamo quindi molte piante ancora in piedi. Tutto questo faciliterà sicuramente la rinnovazione del Pino d'Aleppo, perché il Pino d'Aleppo è una pianta eliofila, è una pianta che non sopporta l'ombreggiamento di altre specie e poi ha questi strobili che si dicono serotini, che si aprono con il passaggio del fuoco. È una pianta proprio adattata al fuoco. Noi non dobbiamo fare altro che accompagnare la natura verso questa sua rinnovazione positiva di un bosco di Pino d'Aleppo e possibilmente della macchia mediterranea anche. Ma quanto tempo si vorrà per rivedere le chiome verdi? La rinnovazione del Pino d'Aleppo è molto veloce. La pianta si fruttifica a 8-10 anni. Lo strobilo si matura in due anni e il seme in tre anni. Ora ci sono molti strobili che erano chiusi e col passaggio del fuoco, che è stato appunto un fuoco di chioma, si sono sicuramente aperti e quindi hanno disseminato. E alle prime piogge sicuramente ci sarà la germogliazione delle plantule. E poi, siccome vedo che le piante sono rimaste in piedi, sicuramente qui si creeranno moltissime nicchie ecologiche, perché è stato appunto un fuoco che ha mineralizzato la sostanza organica, quindi rende disponibili subito calcio, potassio e sodio alle piante. Per cui, secondo me, ci sarà un'esplosione di vegetazione e anche di nuove nicchie ecologiche. L'aspetto delicato che interessa anche noi è sicuramente quello del ruscellamento superficiale, quindi quello dell'erosione, in previsione di piogge intense e impreviste. Allora sarebbe importante fare magari delle piccole fascinature che possono fermare il ruscellamento. Però anche queste piante in piedi già svolgono questa funzione un po' antierosiva. La vegetazione si riprenderà se noi non facciamo altri danni. Qui la natura potrà riprendersi, penso, anche in maniera molto rigogliosa. Ecco, io penso che in 3-4 anni qui lo rivediamo verde.